Buongiorno a tutti, veniamo al dialogo vero e proprio che dovrebbe essere, che avrebbe dovuto essere una discussione tra Socrate, Crizia, Ermocrate e Timmeo, il quale inizia il discorso enunciando i seguenti assiomi, ossia principi di per se stessi evidenti e sono. A. L'essere, ossia la vera e autentica realtà, non è affatto soggetta al divenire è l'essere intelligibile colto dal nostro intelletto. B. Il divenire non è il vero essere, si genera e muta ed è colto dalle nostre sensazioni. C. Ora, ciò che deriva dal divenire necessita di una causa che determina la generazione. Tale causa è, secondo Platone, il demiurgo che funge da causa efficiente. D. Il demiurgo, generando il cosmo, ha preso come ispirazione un modello eterno, simbolo di perfezione e di ordine. Ne consegue che ciò che produce, ossia il cosmo, il mondo, è bello in quanto il demiurgo è il più buono tra gli artefici e ha realizzato il bene nel suo più alto grado. Pertanto, Platone può affermare calos cai agatos, ossia ciò che è bello è buono e ciò che è buono è bello. In conclusione di questo discorso si deve affermare che il mondo sensibile è immagine di una realtà sopra sensibile. E la realizzazione del cosmo da parte del demiurgo costituisce la realizzazione del bene nel mondo fisico. A questo punto è lecito chiedersi, ma che cos'è per Platone il bene? Rispondiamo immediatamente, è l'1, misura suprema di tutte le cose. E realizzare il bene consiste, secondo Platone, nel portare unità nella molteplicità, nella massa informe e divisa del mondo fisico sensibile, sulla base, ripeto, sulla base di adeguati rapporti numerici, introducendo in questo modo ordine e proporzione. Ne consegue che il cosmo è perfetto in quanto è 1, così come 1 è il modello e l'immagine di esso. Si tratta in sostanza di un unico intero di forma sferica che in quanto tale include tutte le forme geometriche.